Sara sceglierà Luigi? Ecco le novità sull'attesissima scelta Oggi lunedì 21 maggio una nuova puntata del Trono Classico e domani 22 maggio la scelta di Sara Anche Sara Affifella è pronta a scegliere, chi sarà il suo futuro fidanzato tra Lorenzo e Luigi? Il web si divide, ma un indizio di Giordano Mezzocchi sembra portare a Luigi. La scelta direttamente in studio Sara aveva deciso di passare un giorno e una notte interi nella famosa villa, luogo ormai preso di mira da tutti i tronisti per giungere ad una conclusione La bella napoletana dovrebbe già aver trascorso le ultime ore da singli insieme a Lorenzo e Luigi, domani martedì 22 maggio infatti sarà registrata la puntata della scelta vera e propria, che avverrà in studio, come successo recentemente a Nilufar e Giordano Ma chi sarà il fortunato? Un indizio porta a Luigi. Giordano scrive Aspettiamo solo voi Giordano Mezzocchi e Nilufar a dati stanno vivendo la loro storia d'amore all'esterno dello studio di uomini e donne, ma come abbiamo visto tutti, Giordano e Luigi sono diventati molto amici, così come Sara e Nilufar, nonostante i battibecchi iniziali soprattutto per contendersi Lorenzo Giordano proprio in questi giorni ha pubblicato una foto che lo ritrae con il corteggiatore siciliano con la didascalia Aspettiamo solo voi, frase chiaramente riferita a Sara e Luigi Semplice augurio da parte di un amico ovvero e proprio spoiler? Il web si divide, ma se questo riferimento potrebbe essere un sincero in bocca al lupo, è anche vero che la stessa Sara aveva fatto una sorta di spoiler sulla scelta di Nilufar, quando invitò Nicolo a non essere tanto ottimista sulla conclusione del suo percorso, segno che le due ragazze si erano parlate La stessa Nilufar sembrerebbe aver detto a Sara di scegliere Luigi. Cosa ci sarà di vero? Domani lo scopriremo. Oggi in onda il trono classico Per quanto riguarda la puntata di questo pomeriggio lunedì 21 maggio dovrebbe andare in onda, come da programmazione, unaltra puntata del trono classico, forse con lultima vera esterna di Sara prima della villa e soprattutto con le decisioni relative a Mariano Il tronista era stato pizzicato non solo ad alcune serate, evento non permesso dal regolamento della trasmissione prima della conclusione dellesperienza televisiva, ma soprattutto in compagnia di una ragazza mentre le stava baciando Un flop quasi annunciato che potrebbe concludersi proprio con la messa in onda di oggi. Mariano lascerà il trono o sceglierà per non cadere nel ridicolo? Le ultime indiscrezioni parlano proprio di un abbandono del trono